Dopo quasi un mese arriva un nuovo aggiornamento di FIFA che ci porta tantissimi nuovi talenti In questo video vi parlerò solamente di quelli con un potenziale sopra l'80 Lervik, portiere del Molde norvegese, 17 anni, 57 di overall, 81 di potenziale Ilenic, terzino destro sloveno del New York City Saliamo già con i potenziali, abbiamo un difensore centrale del Tolosa, LB, 17 anni, 60 di overall, 82 di potenziale Dopo il debutto da sogno con il Monaco hanno inserito Ben Seguir, 17 anni raga Aggiunto anche Voss, mediano dell'Ajax, di 17 anni, 60 di overall, 83 di potenziale Adesso abbiamo tre giocatori con 84 di potenziale João Neves, centrocampista centrale del Benfica Doak, alla destra scozzese del Liverpool E poi Andrei Santos, brasiliano acquisito dal Casapia Chiudiamo poi con due potenziali 85 Wanner, trequartista del Bayern Monaco E l'ultimo talento, Wilson, attaccante della Stonevilla Mamma mia quanti giocatori hanno aggiunto Proverete questi talenti? Fatemelo sapere nei commenti